Allora, è terminata questa fase di consegna dei completi, siamo con il Presidente e il Vicepresidente della New Leghorn, Futsal Leghorn, New Leghorn. Allora, iniziamo dal Vicepresidente, perché poi è anche giocatore, portiere, difensore. Cos'è che non fai in questa squadra? Tutto, ma se è giocato, fa tutto. Fa tutto, fa tutto. Allora, contenti? La consegna? Sì, è stata una bella prestazione, la più bella partita che si è fatta. Allora, parliamo della consegna dei completini, vi piace il completo che Matteo ha scelto per voi. Quindi, dalla prossima vediamo di ben figurare e fare anche bella figura in campo e tutto, vero? Sì, sì. Bene, grazie Mirko. Allora, Matteo, il tuo gruppo, diciamo che, ora siamo contenti con i completi nuovi e tutta un'altra cosa. Sì, sì, speriamo che i completi nuovi cominciano a portare un po' fortuna, le squadre, c'è bisogno. L'importante è divertirsi, anche perdendo, perché ieri i ragazzi si sono divertiti. Sono divertiti, sono divertiti, tu non c'eri, ma... È partita, io non sono il presidente che si deve cominciare, sono il presidente della squadra e tutto il progetto che sta venendo su, per lo più alto. Bene, e questo ci piace. Grazie Matteo e buona continuazione. Ok, grazie. A voi, si va bene.